fuma ma riguona in dambia se me se brichi dai devo ammettere che è molto futuristico questa modalità anche hanno aggiunto anche questo fort bite che deve essere una specie di mappa del tesoro no ma tu dove è? sai tipo le schermatiche di capire di sviluppare quali o una di quelle? andiamo un po luci pozzetti e c'è uno che si chiama così comunque troppo figo il deltaplano lo grab e io metto sempre i paracadute casuale costume casuale perchè? non sai com'è mi piace cambiare vabbè se vuoi vedere l'altra isola che c'è rip to go si si tranquillo ma comunque sai il video che ho fatto vedere della season 9 il video? si quando avete il dabbo che si mangia la banana? si si beve la banana ah ce l'ho dato si ragazzi e lo bisogna avere questa skin per andare ciao Grazie per la visione